CONOSCENZA DEGLI INTELLETUALI liberazione dei sofferenti, rivelazione degli iniziati, conoscenza degli intellettuali, equilibrio per i pazzi, pazienza per gli impulsivi, fuoco per i tepidi, acqua per gli irosi, spirito per i materialisti e materia per gli spiritualisti, accoglimi nel tuo seno, cosciente tra i coscienti. Vivo tra i vivi, insegnaci la vera vita, facci consapevoli della vera morte, illustraci la vera giustizia, dimostraci l'infallibilità di ciò che sei e l'illusorietà dell'ingiustizia. Facci coscienti col dolore, saggi con la comprensione, prudenti con la saggezza, virtuosi con la purezza, magnanimi con la generosità, grandi con l'amore, amici con la disponibilità, valorosi col coraggio. Facci liberi con la schiavitù, rispettosi con la violenza, servizievoli con l'assassinio, umili con la superbia, giusti con la prepotenza, equilibrati con la follia. Tutto questo fa di noi, oh Signore, ma sia fatta la Tua volontà e non la nostra. Amen. Pax Vobbiscum in nomine Domini Frate Bernardo vi abbraccia Sappiatemi eternamente con voi nella preghiera e ripetete, se volete, le parole che ho detto, sempre Che questa sia la vostra preghiera oggi e nei secoli